Buongiorno Friuli e buon lunedì, lunedì 17 ottobre. La settimana inizia l'insegna del cielo da variabile a nuvoloso, ci dicono gli esperti dell'Osmer Arpa. Al mattino possibili nebbie o foschie, temperature in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi, e minime di 10-13 gradi in pianura, 13-16 gradi sulla costa, e massime che andranno dai 18 ai 21 gradi. Chiusa questa prima parentesi dedicata alle previsioni del tempo, andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere assieme le principali notizie raccontate oggi dalla stampa nazionale. Siamo sul Corriere della Sera e in primo piano troviamo ancora le novità previste dal documento di Economia e Finanza, dalla manovra di bilancio, in particolare per quanto riguarda l'abolizione di Equitalia. Tasse e cartelle, le nuove regole, via sanzioni e interessi di mora, agio ridotto sulle cartelle esattoriali emesse da Equitalia, ma anche da altre amministrazioni come le multe dei comuni. La sanatoria fiscale che il governo ha appena varato interessa circa 100 miliardi di euro di cartelle, con quelle che arriveranno entro dicembre. Renzi dice pagare meno, pagare tutti, critico l'ex ministro Visco, un condono che serve solo a fare cassa. Si parla di imposte non versate appunto per 93 miliardi l'anno. C'è anche un appello da parte di Renzi all'Europa, l'Europa deve aiutarci. Oggi la manovra di bilancio sarà all'attenzione di Bruxelles e vedremo appunto quali considerazioni arriveranno dall'Unione Europea. Poi nel taglio alto invece la cronaca estera con due notizie importanti che ci arrivano dalla Siria e anche dall'Iraq. Liberata da Bic per l'Isis era la città dello scontro finale. E' stata liberata dunque dalle forze dei ribelli siriani, i ribelli anti-Assad. La città simbolo di Dabic, una città considerata roccaforte da parte dell'Isis, una città simbolo perché è anche la città che secondo una profezia avrà, è proprio qui che avrà sede appunto secondo una profezia, lo scontro finale, la battaglia finale tra cristiani e musulmani. E ora tocca a Mosul, ci dice l'articolo che troviamo in primo piano sul Corriere della Sera, quindi dalla Siria all'Iraq, abitanti avvisati con volantini poche ore all'attacco per liberare la città di Mosul dalle truppe del califato. Chiudiamo il Corriere e andiamo sulla prima pagina di Repubblica. Vediamo che anche su Repubblica in primo piano abbiamo proprio questa notizia. a Siria un altro colpo al califo cade la città simbolo dell'Isis. I ribelli appoggiati dai turchi conquistano Dabic pronto l'assalto a Mosul. E poi ancora, vediamo anche su Repubblica Equitalia, sconti fino al 50%, evasione record, ma tempi più stretti per pagare le rate. E ancora, sempre su Repubblica, la nuova chiesa ortodossa rivoluziona lo skyline di Parigi, quelle cupole volute da Putin che oscurano la Torre Eiffel. E vediamo appunto la foto. Chiudiamo anche Repubblica, andiamo adesso sulla prima pagina di Libero, Libero che titola così in apertura da un flop all'altro, Veltroni fa il Becchino, l'esordio di Dieci Cose, il programma ideato da Walter al costo di un milione a puntata, fa crollare il sabato sera di Rai 1. Ormai per Viale Mazzini e Allarme Rosso, i nuovi vertici non ne azzeccano una, scrive Libero. E poi sempre a proposito di Rai, in primo piano anche le confessioni di Massimo Giletti, non mi amano e me ne vanto, ma mi sopportano per gli ascolti. Andiamo adesso anche sul giornale. In questo caso in apertura abbiamo la manovra referendaria, così il giornale definisce la manovra di bilancio, tagli e tasse, tutta la verità, finanziaria buona per imprese anziani, pessima per i giovani e il governo sborsa 36 milioni per comprarsi i super professori. Chiudiamo anche il giornale, andiamo velocemente anche sulla prima pagina del Sole 24 Ore, vediamo le notizie principali, riportate appunto dal Sole 24 Ore, in realtà abbiamo una pagina interna sul nostro touch, quindi andiamo subito sui quotidiani locali, andiamo su Messaggero Veneto, Piccolo e Gazzettino. Vediamo la prima pagina del Messaggero Veneto di Udine, che apre oggi con questo titolo, Boom dell'eterologa in Friuli, già utilizzati e tutti gli ovuli importati dalla Spagna. Nel fascicolo che apre le pagine dedicate a Udine e Provincia troviamo l'articolo che appunto ci riferisce dell'andamento della fecondazione eterologa, decine di richieste in Friuli. In nove mesi alla Casa di Cura sono state effettuate 47 inseminazioni, diagnosi preimpianto sperimentata su 21 coppie. A novembre il primo bimbo, poco meno di una cinquantina di ovuli fecondati già impiantati nelle aspiranti mamme in soli nove mesi alla Casa di Cura Città di Udine, vale a dire più di quanto l'amministrazione regionale aveva preventivato di importare dalla Spagna per garantire il fabbisogno annuale di tutta la Regione. Torniamo in prima pagina adesso, andiamo a vedere anche le altre notizie, a cominciare dai funerali di Andrea Pittini in programma questo pomeriggio alle 14.30 a Osoppo. Oggi l'addio ad Andrea Pittini, i funerali dell'industriale saranno celebrati nella sede delle ferriere di Osoppo. Il ragazzo che giocava con una palla di stracci, ricorda Sergio Gervasutti nel suo articolo. E poi a pagina 2 e 3 abbiamo tante testimonianze, tanti racconti di chi conosceva Andrea Pittini. L'ultimo saluto al Cavaliere tra i suoi operai a Osoppo. Ieri in centinaia alla Camera Ardente, i funerali oggi alle 14.30. Un dolore privato tenuto volutamente lontano dai riflettori. Così la famiglia Pittini ha scelto di vivere il lutto per la perdita del Cavaliere nel silenzio. Anche ieri, quando in tanti hanno raggiunto la cella mortuaria dell'ospedale di Udine per rendere ad Andrea Pittini l'ultimo saluto prima delle esequie che saranno celebrate oggi pomeriggio in azienda. E tra le tante testimonianze, tra i tanti ricordi riportati oggi dal Messaggero Veneto, anche il ricordo di Redento Fabbro, un ex dipendente di Andrea Pittini che dice prima mi assunse e poi mi lasciò andare a fondare la mia azienda. Tu comincia, mi aveva detto, mal che ti vada guadagnerai il doppio. Torniamo in prima pagina adesso, andiamo a vedere anche le altre notizie riportate oggi dal Messaggero Veneto. Per quanto riguarda la politica, si ritorna sul dibattito per la nascita delle macro-regioni, il no dei forzisti di casa nostra, l'asse Totti-Zaia Maroni. Per la coordinatrice del Friuli Venezia Giulia, di Forza Italia, Sandra Savino, il patto Totti-Zaia Maroni per le macro-regioni è stata un'iniziativa non condivisa con il partito. E poi vediamo subito a centropagina la foto della GSA in festa per la bella vittoria di ieri contro Recanati, tutto esaurito per la GSA che demolisce Recanati. Basket a due, Udine continua a sognare. Debutta Rei, ma è Okoye la superstar. Semplicemente non c'è stata partita, scrive Antonio Simeoli. La GSA ha schiantato Recanati con un Okoye super. E poi con i nostri colleghi dello sport entreremo e approfondiremo bene anche questa notizia sportiva. Andiamo di spalla adesso. Si parla ancora del parcheggio di Piazza Primo Maggio. c'è un articolo di Paolo Mosanghini che dice il parcheggio adesso c'è, bisogna farlo funzionare. Non si può dire che il megaparcheggio di Piazza Primo Maggio sia un successo. E ancora una notizia di cronaca nera a San Daniele Oste stroncato da un malore nel suo locale. Aveva 51 anni. Andiamo a vedere la notizia nelle pagine interne. Addio a Max, anima dell'osteria al Batiram. Lutto per la scomparsa di Massimo Aquili giovedì notte era stato colto da un improvviso malore nel suo locale. Lo vediamo appunto in questa foto. E poi ancora, sempre sulla prima pagina del Messaggero Veneto, tornando alla politica, andiamo a Nimis. Nimis che domenica sarà chiamata di nuovo alle urne per eleggere il nuovo sindaco dopo che durante la scorsa tornata elettorale non era stato raggiunto il quorum. Nimis vuole uscire dallo stallo, scrive il Messaggero Veneto. Dopo il commissariamento, tra una settimana si vota. E andiamo allora nelle pagine interne, nella doppia pagina dedicata proprio al comune di Nimis. Scuole, giovani e imprese, i tre candidati a confronto. La sfida è tra Tosolini, Bressan o Vaccarin dopo la parentesi del commissariamento. e vediamo appunto la sede del municipio e i tre candidati, Walter Tosolini, Gloria Bressani e Gabriel Vaccarin. Nella parte sottostante della pagina abbiamo proprio le domande e le risposte dei candidati sindaco in materia di opere pubbliche, economia, giovani e poi ancora l'aspetto che caratterizza la lista e la differenza rispetto a quella degli altri candidati. Ancora una notizia sul messaggero Veneto richiamata in prima pagina e ci porta a Palmanova presa d'assalto ieri da molti visitatori alla scoperta dei sotterranei della città stellata. In fila la scoperta dei tesori nascosti della città stellata in tanti per l'apertura delle gallerie a Palmanova in occasione di un'iniziativa promossa dal FAI i visitatori divisi in gruppo per partecipare all'iniziativa. E qui vediamo appunto alcune immagini dei percorsi sotterranei della cinta muraria di Palmanova, dei bastioni di Palmanova. Andiamo adesso sul messaggero Veneto di Pordenone e vediamo che in primo piano c'è una notizia che riguarda la fiera, no alla società con Roma, il comune e la provincia bocciano il nuovo progetto. Questo il titolo di apertura del messaggero Veneto di Pordenone che è dedicato appunto proprio alla fiera. Nuova società con Roma bocciata in assemblea. L'ente di Viale Treviso avrebbe dovuto partecipare con centomila euro al capitale. Camera di commercio favorevole ma comune e provincia hanno detto no. Prime crepe in fiera scrive il messaggero Veneto di Pordenone. E poi ancora sempre su questo quotidiano vediamo anche la giornata di festa ieri a Pordenone con incontriamoci a Pordenone sole ed eventi per il pienone l'iniziativa coinvolge un'area sempre più vasta tutte le proposte hanno ricevuto apprezzamenti. E ancora rimanendo sul messaggero Veneto di Pordenone oggi troviamo un'intervista all'ex comandante dei RIS di Parma Garofano che interviene sul processo a carico di Giosuè Ruotolo oggi ci sarà un'altra udienza in corte d'assise a Udine saranno ascoltati i primi testi del PM Garofano dice i periti saranno decisivi l'ex comandante dei RIS di Palma molti casi risolti grazie alle prove scientifiche ai soccorritori svelati gli accorgimenti per non inquinare la scena del crimine andiamo adesso sul messaggero Veneto di Gorizia in questo caso si apre parlando dei fondi comunali per le famiglie in difficoltà 5 milioni in tre anni in costante aumento la fascia della popolazione che versa in stato di indigenza nel 2015 ammesse 357 domande per gli affitti 987 richieste per la carta famiglia questo quanto il comune ha messo a disposizione appunto per le famiglie in difficoltà andiamo adesso anche sul gazzettino il gazzettino di Pordenone e vediamo che in apertura troviamo la notizia con la quale hanno aperto anche molti quotidiani nazionali manovra Renzi sfida l'Europa il premier rilievi dall'Unione Europea sulla finanziaria pensino piuttosto a darci una mano sugli immigrati e poi l'attacco di D'Alema sul referendum è illogico Stati Uniti e Merkel rispettino il popolo italiano andiamo a vedere anche le altre notizie dall'evento di Pordenone incontriamoci fa il pienone e gli collezionisti fanno razzia un incidente avvenuto a Fontana Fredda scontro tra due biciclette per una mancata precedenza si rompe il casco grave un ciclista è accaduto appunto ieri mattina in via Bellini a Fontana Fredda un quarantenne di Sacile che assieme ad altri quattro amici si stava allenando non è riuscito ad evitare un anziano che ha tagliato loro la strada in bici nella caduta ha rotto il casco e sbattuto la testa e poi ancora vediamo sempre a Pordenone piano antismog in vigore da oggi le nuove regole andando nel taglio altro taglio alto scusate altre due notizie di cronaca a Frisanco escursionista perso nella nebbia ritrovato grazie a Whatsapp e poi a Zoppola la Cimpello Sequals più sicura i tre rimedi contro la velocità andiamo a vedere anche la notizia che apre il fascicolo dedicato al Friuli il fascicolo del gazzettino in edicola oggi addio a mamma coraggio Elena Furlan si è spenta a 36 anni ma è riuscita a mettere al mondo Maria Vittoria aveva scoperto il cancro con le ecografie diceva ai medici salvate la mia creatura questa l'apertura delle pagine del 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 gazzettino dedicate al Friuli adesso prima di passare la linea ai colleghi dello sport andiamo a vedere anche la prima pagina del piccolo oggi in edicola il piccolo che apre con in Friuli Venezia Giulia rischiano il posto 500 bancari credito in crisi e tagli dal 2011 già sparite decine di filiali i timori dei protagonisti questo è il titolo di apertura e poi vediamo anche le altre notizie sportive a centropagina con la Triestina ma anche il basket di Trieste in primo piano avevamo parlato prima sfogliando le pagine del messaggero veneto di Udine dell'iniziativa che si è svolta ieri a Palmanova e che ha coinvolto centinaia di persone alla scoperta della Palmanova sotterranea chiamiamola così un'iniziativa del FAI che ha visto anche altri momenti importanti in altre località della nostra regione anche a Udine per l'occasione sono stati aperti una serie di palazzi importanti sorti lungo le rogge della città allora io direi di andare a vedere il servizio le interviste che ha realizzato Francesca Santoro e poi spazio allo sport con i colleghi con Francesco Pezzella perché dobbiamo parlare della GSA dobbiamo parlare dell'Udinese dobbiamo parlare anche del calcio dilettanti come ogni lunedì saremo in collegamento con l'edicola di Cussignacco per questo nostro approfondimento sportivo del lunedì Nuova edizione per la FAI Marathon a Udine cosa ne pensa? Io sono sorsa dal 91 del FAI e mi piace che i giovani partecipino questo però non me lo ricordo tanto perciò sono venuta direttamente a vedere questo palazzo uno dei palazzi che non è tanto nella mia mente mi piace moltissimo sono cose interessanti perché si vede finalmente qualcosa che non si vede abitualmente insomma e quindi è una cosa utile mi piace molto insomma siamo con la famiglia come vediamo insomma un itinerario quello di quest'anno quindi completamente nuovo questo per esempio l'ho visto molti anni fa e non me lo ricordo quindi lo rivedo volentieri poi gli altri due palazzi che ho intenzione di vedere sono nuovi non li ho mai visti in via Zannone prima volta alla FAI Marathon in autunno sì ho seguito le giornate del FAI di primavera più di una volta sono ottime perché permettono di accedere a luoghi che altrimenti non si vedrebbero e con una presentazione spesso di buon livello fatta da persone competenti e preparate questa è la prima volta a Udine che faccio il Marathon interessante sono sempre luoghi interessanti da vedere e da scoprire non si ritorna dove si era già la cultura è sempre che fa parte della personalità delle persone avrei qualche perplessità sull'organizzazione molto peggio di altri posti per cui la città la conoscevamo già tranquillamente soltanto che i palazzi no ecco questo sì questo è vero però sì ci potrebbe far di molto meglio buongiorno eccoci qui pronti per dare via alla rassegna sportiva oggi non parleremo dell'Udinese per quanto riguarda il post partita perché abbiamo già trattato questo argomento ma ci proietteremo già sulla partita contro il Pescara naturalmente con dei riferimenti a quello che si è visto a Torino una partita giocata molto bene con un risultato che non è arrivato soltanto perché la Juventus ha sfruttato bene due calci da fermo in pratica una punizione calciata magistralmente la di Bale e poi il calcio di rigore dello stesso argentino ma l'Udinese che ha sicuramente fatto tremare lo Juventus Stadium oggi avremo naturalmente molti argomenti che riguardano invece il calcio dei dilettanti la pallacanestro con la GSA che ieri ha vinto ed ha conquistato la prima vittoria in casa due su tre in questo avvio di campionato per la squadra allenata da Lino Lardo con l'esordio di Ray Ray Allen che ha giocato anche una buona partita considerando che è arrivato qui da pochi giorni con compagni che non conosce e nonostante tutto ha comunque messo a segno 14 punti facendo vedere delle potenzialità enormi da sfruttare nel prosieguo della stagione ma andiamo sulle prime pagine dei giornali perché il messaggero dedica spazio proprio alla formazione di Lino Lardo il messaggero pubblica questa foto del momento prima della partita tutto esaurito per la GSA che demolisce Re Canati infatti Re Canati è crollata sotto i colpi della GSA praticamente quasi subito 22 a 2 il primo parziale con quindi un primo quarto giocato alla grande dove sono state poste le basi per il successo semplicemente non c'è stata partita scrive Antonio Simeoli la GSA ha schiantato Re Canati con un Ocoglie super e concordiamo anche sul super per Ocoglie perché è stato davvero molto molto bravo andiamo alle pagine interne del messaggero con l'inserto dedicato allo sport e allora facciamo passaggio ovviamente come dicevamo sull'Udinese ma in chiave prossima partita Udinese adesso niente paura è il titolo prima dell'inserto sport del lunedì la classifica piange il Palermo oggi può spedirla in zona B ma la cura del Neri già si vede se il Palermo dovesse vincere per l'Udinese sarebbe zona B comunque i segnali visti a Torino sono assolutamente confortanti qui vediamo l'abbraccio tra Theroux Coombs poi ci sono anche Vagedda Nilo lì vicino con Jankto che ha appena segnato il gol dell'1-0 un esordio alla Juventus Stadium con un primo gol segnato in Serie A a Buffon sicuramente un qualcosa da non dimenticare per tutta la vita la domenica il messaggero scrive l'analisi l'effetto Gigi ha portato coraggio e fiducia sotto vediamo Badu ricoverato in ospedale sarà out contro il Pescara qui invece al centro Coi è formato Ayr la GSA vince ancora Cividale si recanati nel primo quarto è stata schiantata il nigeriano da spettacolo Rey esordio in scioltezza la GSA ha vinto 84-62 una partita perfetta durata poco più di 10 minuti non è mai riuscita a rientrare in partita la formazione avversaria andiamo qui sopra la testata per segnalarvi anche altre notizie in Lega Pro il Pordenone ha carattere ma prende troppi goli è finita 3-3 la partita contro il Sant'Arcangelo un pareggio che lascia la mano in bocca eccellenza pari tra Lumignacco e Chionza la partita che abbiamo trasmesso ieri in diretta sulla nostra rete e poi via libera al Cialinz Musane nel girone di eccellenza del Friuli Venezia Giulia Volei Cordenonze ribalta e vince in B mentre in serie B1 tutte senza scampo le formazioni della nostra regione in basso invece per quanto riguarda gli altri sport a livello nazionale abbiamo la MotoGP con Valentino e Jorge Out e Marquez che conquista il titolo mondiale Valentino Rossi aveva fatto molto bene nelle prove conquistando la pole position dopodiché è caduto e per lui non c'è stato più nulla da fare quindi Valentino fuori Jorge Lorenzo fuori Marquez conquista il mondiale era ormai nell'aria ci ha provato Valentino Rossi a tenerlo in vita il più possibile con una grande qualifica prima del Gran Premio sfortunato per lui invece per quanto riguarda il ciclismo Peter Sagan re del deserto è ancora iridato eccolo qui taglia il traguardo dopo uno sprint favoloso campione del mondo uscente dopo Gand Welbegem Fiandre tre tappi al tour Maglia Verde al campionato in Europa rivince anche il mondiale il ciclista ha battuto il neocampione del mondo che era anche campione uscente ha battuto Kamendish e Bonen il primo degli italiani Nizzolo che ha conquistato il quinto posto il mondiale si è tenuto a Doha in Qatar continuiamo con lo sport ed eccoci alla doppia pagina dedicata all'Udinese con un bell'articolo profilo su su Yangto urlo di Yangto l'Udinese non deve mollare la carica dei tanti giovani rilanciati da Gigia da Aquilea per i punti salvezza ha giocato molto bene anche anche Fofanà il calciatore francese ha dato spessore alla sua prestazione davvero con personalità e si è avvertito questo sul campo le prestazioni tornando al Ceco la prestazione è il gol del Ceco fattori positivi del K.O. con la Juve uno dei nuovi gioielli di Pozzo fu pagato solo 700 mila euro adesso può esplodere si vedeva subito fin dalle sue apparizioni in primavera che si trattava di un giocatore dalla stoffa importante poi lo ha dimostrato ad Ascoli al primo campionato di Senior in Serie B giocando molto bene e poi qui a Udine ha sfruttato la sua chance già con Iachini che lo aveva mandato in campo intravedendo le sue potenzialità e adesso con Del Nedi che lo ha addirittura promosso titolare nella gara contro la Juventus Iancto è stato molto bravo a sfruttare questa occasione segnando anche il gol del momentaneo vantaggio l'alto segreto di Iacub è la sua Vanessa scrive Simonetta d'Este sul Messaggero la fotomodella cieca famosa per i suoi tatuaggi è la fidanzata del Bianconero un po' di riflettori quindi su Iacub Iancto che dovrà farci l'abitudine ovviamente man mano che andrà avanti con la sua carriera se confermerà quanto di buono ho fatto vedere dovrà anche abituarsi al gossip e ai riflettori puntati su di lui punti di svolta la ricetta di Del Neri scelta degli uomini d'utilità e mentalità il tecnico ha portato novità importanti al suo esordio la squadra sta imparando a non subire la partita ecco il mister alla prima sulla panchina dell'Udinese si dispera per una delle occasioni fallite nel finale a Torino in tanti si sono chiesti dove il mister Iacchini avesse nascosto due come Fofana e Iancto a dire il vero Fofana all'inizio aveva cominciato a giocare poi era stato tenuto fuori per quanto riguarda Iancto c'era stato un inserimento graduale Iacchini lo ha fatto esordire poi aveva dato anche la ribalta la titolare nella gara contro il Sassuolo la primavera ha pareggiato uno a uno contro il Cittadella ma questo articolo questo box che vedete con Mattiussi che ha rilasciato alcune dichiarazioni riguarda invece proprio Iancito come dicevamo le sue prime prestazioni a Udine le ha fatte con la primavera al suo arrivo in bianco-nero dopodiché ha spiccato il volo Mattiussi dice di lui è veloce e aggressivo sa fare gol in virtù di un buon tiro di un piede gentile queste le parole del vecchio maestro Luca Mattiussi intanto siamo collegati con l'edicola di Cussignacco dove andiamo con Davide Zanirato come ogni lunedì mattina ad avviare i nostri commenti sulla giornata sportiva in particolare il calcio il calcio dilettanti poi dovrebbe raggiungerci anche Davide Micaric per parlare della GSA iniziamo subito con Davide buongiorno a te la linea buongiorno Francesca buongiorno Friuli dall'edicola di Cussignacco siamo ritornati a trovare il nostro amico Gigi Lanzilli dopo un lunedì di pausa ma è servito anche per vedere rigenerata l'Udinese sicuramente ho visto una squadra molto combattiva a centrocampo hanno fatto un'ottima prestazione Janto e Fofanà sono stati bravissimi e devo dire la verità mi hanno sorpreso anche tutti i reparti soprattutto anche Torreau è cresciuto molto che fino a questo momento probabilmente è anche dovuta a una condizione fisica un po' approssimativa e l'ho rivisto fare delle bellissime giocate sono stati peccato quel gol preso a fine primo tempo perché secondo me se andavano a riposo sull'1-0 probabilmente tornavano a casa con dei punti quindi la mano di Gigi Del Neri si vede già beh sicuramente ho visto una squadra che è entrata con una decisione diversa probabilmente la motivazione di giocare contro la Juve e il cambio dell'allenatore hanno influito sicuramente una battuta veloce anche sull'eccellenza poi ci ritorneremo nel corso della mattinata si sta staccando il binomio di testa Chionse e Chialis Muzzane vero? beh sicuramente ai ritmi del Chialis Muzzane è difficile stare in questo momento perché comunque sta vincendo sempre Chionse e Lumignaco sono due ottime squadre però secondo me il Chialis ha qualcosa in più poi sono molto contento per i primi tre punti della Manzanese perché ha un mister che è un mio carissimo amico e sono contento che abbia vinto gli orange si sono sbloccati lasciamo Gigi ai clienti perché sta venendo sommerso appunto dalle richieste a tra poco a te Francesco grazie grazie David primo assaggio con Gigi in edicola primi commenti a questa giornata a questo weekend di calcio dilettantistico ma anche sull'Udinesi abbiamo dato un primo assaggio anche di quello che è accaduto in eccellenza con il Chialis Muzzane che va avanti e le altre dietro che tentano di mantenere il passo ma sembra la squadra davvero da battere quella di Carlino per quanto riguarda invece la Serie A oggi si chiuderà con una partita che manca all'appello per concludere questa ottava giornata e sarà quella tra il Palermo ed il Torino che si affronteranno alle 20.45 tutte le altre partite sono state giocate ieri velocemente vi ricordiamo anche i risultati con il Milan che nel posticipo di ieri sera ha battuto 3-1 il Chievo al Bente Godi è finita 0-0 Fiorentina-Atalanta e stesso risultato ad Occhiali anche tra Genoa ed Empoli il Cagliari invece ha battuto l'Inter per 2-1 su questa partita poi c'è da aprire un focus particolare perché è guerra aperta tra i Cardi e i tifosi poi Juventus sudinese è finita 2-1 per la Juventus nell'anticipo di sabato Lazio-Bologna 1-1 tra Napoli e Roma altro anticipo di sabato è stata da Roma a vincere per 3-1 poi Pescara-Sandori è finita in parità 1-1 il Sassuolo ha battuto il Crotone 2-1 in rimonta per una classifica che come potete vedere premia la Juventus a quota 21 in vantaggio su Roma e Milan di 5 punti e poi via via le altre con Lazio e Napoli che sono appaiate a quota 14 Chievo-Cagliari 13 via via tutte le altre per quanto riguarda l'Udinese è quella qui a quota 7 è chiaro che se Palermo stasera dovesse battere il Torino andrebbe a 9 e spedirebbe Udinese e Pescara appaiate in zona retrocessione al terzo-ultimo posto in caso di parità sarebbe un terzetto a occupare la terzo-ultima posizione ma siamo soltanto all'ottava giornata e l'Udinese ha appena cambiato allenatore quindi non c'è assolutamente da fare da fare drammi e poi parliamo anche di Buffon perché Buffon non è stato impeccabile contro l'Udinese in occasione del tiro di Yancto una fucilata per carità del nostro giocatore ma gli è passata molto vicino al corpo messo insieme all'errore commesso in nazionale ed ecco che cominciano a sorgere dubbi su Buffon ombre su Buffon scrive il messaggero Veneto la sua porta non è più un muro gli errori del portiere contro Spagna e Udinese fanno discutere a Lione nella Juve rientrano invece Dani Alves che dire Pjanic questo per quanto riguarda l'intermezzo di Champions League che si aprirà appunto martedì il Watford regola il Middlesbrug con un gol di Holebas e quindi per Jornets un successo molto importante che li proietta quota 11 punti in classifica a metà classifica un inizio a fase alterna per il Watford con ottimi risultati come questo del successo contro il Middlesbrug ma anche ricordiamolo il successo contro il Manchester United a Vicarage Road ci fermiamo un attimo per la pubblicità poi torneremo e continueremo a sfogliare i giornali in attesa di avere altri ospiti a Cussignacco con cui discutere e commentare la giornata il weekend la giornata di ieri ma in generale il weekend dello sport nella nostra regione a tra poco